Buongiorno, è qui che si fanno gli esami? Sì, sì, ma bisogna chiamarmi un po' di pazienza, il preside non segna ancora arrivare. Eh vabbè allora aspetto, sto qua. No, adesso è comodo un poco avanti. Eh grazie. Oh, finalmente il sito è arrivato, anche se è a Petrusèo che va a fare l'esame. Ma chi è questa signora Petruzzèo? Un'altra cosa non sono mia. È a fare, è a maestra elementare qua. Adesso si sta voceando una volta. Eh no, sono buoni a fare, che impara questo benedetto dialetto. Comissiono a posto, signora Petruzzèo andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Allora, si è a posto, si è preparato il giro perché venire qua ogni sabato, non sei che il massimo. Sì, dottore, ho studiato tutto, ho studiato tutto. Allora, ma le vostre parole sono sempre più figlie. Eh, bambini da Dio, o te te prepari, se no in Padania, chi non te entri? Mia, te torni a casa tua, sei tu, te torni là, dove sito, da Napoli, te torni a casa tua. Gli altri qua siamo già in tanti. Quindi, o te te prepari, te che intenzioni di mettere a posto, di imparare, e se no te vai a casa tua. Remo. Proprio? Eh beh, si va. Avanti, sentimo dai, sentimo cosa che hai che imparare. Vediamo. Guarda, che sei il buso? Cosa che sei? Cosa che sei? Parla conmi. Chi sei quello? Eh, piccini, vieni qua, che ti dico un morsegone. Dammi un chio, un gaiardo di asiago. Tolte una carrega, sentite. Veccia, vieni qua, dammi un'ombra. Cosa ha detto? Ma, insomma, diria una cadenza più verta, più pointona, più da Veneto. Che sei troppo italiano in mezzo. Signora Petrusseo, avanti, sentimo qualcos'altro, dai. Vediamo se teniamo questa laurea in modo che la finimmo. perché sono stufo, mi eri qua. Mi so di rompermi i maroni, eh. Non stai a parlare. Cosa che sei? Vieni qua, vieni qua che ti dà un basetto. Cosa ti vuole? Un goto di vino? Un goto di bianco? Un fila di acqua? Vieni qua, piccini, vieni da me. Vediamo se ti impara bene queste tre parole. Se ti impara bene, ti puoi andare. Scei, mona e moia. Calma, pianetto, rifletti e dimmi. Scei, mona, mogia. Sì, diria che... Diamo molto, molto bene cosa ha detto. Mi sarei d'accordo che ha integrato l'umanità. Allora, signora Petruccello, qua chiamo l'ampolla del Po. Con un goccio, mi onoro di mettere un goccio di acqua del Po, così ti si diventa proprio una padana pura veneta. Passa questo esame, mi diria, eh. Io senti... Perfetto. Molto bene. E mi vi ringrazio. Voi altri siete massa bei, massa buoni. Ciò mi piace star qui, mi piace il Caigo, mi piace tutto in Aranze. Tutto, tutto. Arrivederci, signora Petruccello. Grazie, dottor. Arrivederci. E ben integrata tra di noi e nel Veneto padano. Grazie. Grazie a tutti.